Ragazzi, c'è Aldo chiuso in ufficio da più di un'ora e non so che cosa stia facendo. Andiamo a vedere insieme che cosa sta combinando. Aldo, cosa stai facendo? Stai qui da un'ora. Sto preparando il materiale del nuovo cantiere che andremo a pubblicizzare a brevissimo, qualche giorno. Presidenza Brughiera, però non possiamo ancora darvi così tante informazioni perché vogliamo essere proprio pronti e precisi. Quello che vi posso dire è che sarà qualcosa di molto bello, particolare e immerso nel verde. Quindi tante soluzioni diverse tra loro, non spoileriamo troppo e a brevissimo avrete novità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.